dopo il vulcan 7 il vulcan 5 bng arriva al salone con il vulcan 9 ce ne parla carlo malongio di bng salve il vulcan 9 è il massimo prodotto della linea vulcan integra finalmente la possibilità di avere il radar su un dispositivo di classe vulcan grazie alla presa di rete che gli consente la connessione con i nostri prodotti della serie 4g quindi con un semplice collegamento molto facile da realizzare anche su selezioni di assistenti ci si può beneficiare in un display piccolo compatto di funzionalità radar come su strumenti di classe maggiore senza andare a rinunciare alle altre funzioni per cui già ben conosciamo la gamma vulcan che è una gamma completissima dove possiamo con un singolo prodotto utilizzare cartografia il costo che structure scan piuttosto che funzionalità dedicate alla vela la regata soprattutto ad esempio qui abbiamo la possibilità di vedere la start line in una presentazione 3d che è qualcosa di molto comodo quando bisogna partire nel momento giusto ovviamente non ci dimentichiamo delle ley line che consentono di visualizzare l'andamento del vento e di tirare di strambare nel momento più opportuno tutto questo in un dispositivo molto piccolo molto compatto ed al posto sicuramente il prezzo è di 1290 euro grazie caldo grazie